Alfonsina, Alfonsina per un certo periodo ha provato a fare l'attrice e per questo servizio noi abbiamo rintracciato Manuela Arcuri e Gergala si presenti, come si chiama? Quando la lei sta dicendo che è metà shakilko dalla vita in su, mentre dalla vita in giù il famoso shakilko allora il saluto è salam alek, aleklu salam salam alek aleklu salam moleklu salam sozzi, sai come si chiama? no lui, non ne ho idea non conosco, non so chi sia si chiama Quanto La Quanto La Quanto La Quanto La Assà assà sei fantastici sei fantastici ciao 2p greco, baci amma mia